vedete questa piramide è stata appena consumata da me e il socio qua 5 Sambuca 5 Tequila c'è venuto a fare una sciocchezza 40 lep pari a più in Deo una sciocchezza troppo è stato un equivoco l'equivoco è stato mia che sono andato diretto abbiamo sbagliato di 5 lep perché erano 15 lep e lui ha capito 40 una cosa fresca per vero comunque ho solo una cosa a dire dopo questi 5 Sambuca vuoi sbannatare l'acqua l'acqua è un granito vuoi sbannatare l'acqua ma io vuoi sbannatare l'acqua se ci riuscivo perché siamo rimasti in zanevola non mi ha fatto i soldi in natale 5 tequila a cuore, 5 Sambuca a cuore non so di soddisfazione e questa è stata una cosa fresca, un aperitivo fresca mi ha fatto una zica al limone vabbè seguiteci sempre 4083 ma anche di via muah